Clamoroso ragazzi, clamoroso, 1-1 nel finale, fatemelo dire, secondo me è risultato giusto, non tanto perché l'Inter non meritava la vittoria, anche questo, non ha giocato benissimo questa partita, però la spalla oggettivamente la sconvitta era un po' troppo, è stata sfortunatissima con l'autogol, ha giocato bene, cioè nel senso difensivamente, non ha creato nel primo tempo soprattutto grandi occasioni, però nel secondo tempo si, si è svegliato giustamente dopo l'autogol, ha cercato un po' di reagire, l'Inter secondo me se vuole veramente puntare alla Champions deve assolutamente cambiare qualcosa, deve acquistare qualche giocatore, Spalletti deve modificare un po' lo stile di gioco perché gioca veramente male e contro la spalla dove deve andare a fare almeno 3 punti, detto questo merita alla spalla, è veramente una bellissima squadra, secondo me si toglierà tre molte soddisfazioni quest'anno, Antenucci veramente formidabile, un grandissimo giocatore e bisogna dire che anche il centrocampo, l'Azzari con Kurti ci si è impegnato, forse ha spiegato qualche occasione dentro l'area, c'è stata un'occasionissima per Vesino che lì veramente poteva chiudere il match con un assiste di Perisic, ha centrato Meret, poi c'è stata un'occasione per Paloschi dove però non ha trovato la porta che era praticamente spalancata però di testa era un po' difficile a dirla tutta, che dire, pollicione in su se siete d'accordo con me, diciamo che ha afferrato proprio alla fine il pareggio che ormai sembrava non essere raggiunto più, ormai era quasi alla fine, la partita però c'è riuscita, ditemi cosa ne pensate, pollicione in su e ci vediamo con un altro video o post partita ragazzi, ditemi chi è stato il migliore in campo ed il peggiore, alla prossima!